Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo di riforma pensioni con dei dati allarmanti che sono arrivati da parte dell'Inps riguardo i primi sei mesi del 2021 a segni media agli uomini di 498 euro maggiori delle donne. Vediamo tutti i dettagli in questo video. Prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale, a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale, naturalmente tutto gratuito. Nei primi sei mesi dell'anno 2021 i dati dell'Inps hanno indicato le nuove pensioni liquidate e per queste ultime gli uomini hanno un importo medio di 1429 euro superiore di ben 498 euro rispetto all'importo medio delle pensioni liquidate nello stesso periodo alle donne 931 euro. Il report è stato presentato nel monitoraggio sui flussi di pensionamento dei primi sei mesi del 2021 metti in evidenza come per entrambi i generi vi sia ancora un alto numero di pensioni anticipate ovvero 79.935 per 2.104 euro medi agli uomini 44.204 per 1.609 euro medi alle donne. In totale le nuove pensioni con decorrenza nel periodo gennaio giugno 2021 sono state 389.924 in totale per un importo medio mensile di 1.155 euro in attesa della riforma strutturale delle pensioni dal 2022 che dovrebbe partire il prossimo 27 luglio. I dati dell'Inps hanno messo in evidenza che prevalgono per numero le pensioni femminili 215.124 contro le 174.800 maschili a fronte però di un importo medio mensile più basso 931 euro contro i 1.429 euro degli uomini. Tali valori si riferiscono conclude l'Inps alle pensioni di vecchiaia compresi i prepensionamenti per il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti e gli assegni sociali alle pensioni anticipate a quelle di invalidità e a quelle ai superstiti di tutte le gestioni. E anche per oggi è tutto se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti.